blitz è passato ad armi no oh chi mi ha ucciso blackbird da dove dalla finestra si è alzato con calma con calma la correndo dentro bomba asia è passato eh dark dark devi tirare la smocca dark veloce dark e che cazzo raga io mi allontano un attimo dall'oblay ma esco e mi allontano che cazzo che cazzo Grazie.